Ciao a tutti, un saluto particolare ai professori e agli studenti attuali e futuri del liceo artistico Ombrogio Alciati di Vercelli. Ho scelto di frequentare questo liceo per trovare la mia strada in ambito artistico e così è stato. Le materie di indirizzo, arti figurative, architettura e design sono un'ottima base per apprendere tutte le competenze che vi porteranno a costruire quel meraviglioso castello che sarà la vostra vita. Non pensate che per intraprendere una carriera artistica vi possano bastare solamente le materie di indirizzo. Ogni singola materia vi servirà per ampliare la vostra conoscenza. Questa conoscenza ridurrà i vostri tempi morti, che per un artista significa ridurre i tempi della ricerca dell'ispirazione permettendovi così di spaziare in vari ambiti culturali e sfornare delle idee nettamente più mature e originali. Se vi impegnerete ed entrerete nell'ingranaggio, i professori saranno i primi a trovare i vostri punti di forza e insegnarvi come sfruttarli. Sono Gabriele Portolato e mi occupo di regia cinematografica. Un in bocca al lupo a tutti gli studenti attuali e futuri del liceo artistico. Tenete a mente questa frase ed applicatela così nello studio, così nella vita. Imparate a rialzarevi. Cadete sette volte, rialzatevi otto.